Abbiamo preso 12 miliardi di euro, di cui oltre 6 su transizione 6.0, sull'efficientamento energetico delle piccole e medie imprese, sulle grandi infrastrutture strategiche energetiche di questa nazione, sull'agricoltura, perché obiettivamente non abbiamo avuto bisogno di vedere i trattori in piazza per sapere che il nostro mondo agricolo, in forza di un contesto complesso e anche di scelte sbagliate che sono state fatte, si è trovato in difficoltà e quindi abbiamo portato le risorse del PNRR sull'agricoltura da 5 a 8 miliardi, siamo riusciti a liberare altri 750 milioni per la sanità, altra grande priorità di questa nazione e quindi abbiamo fatto un lavoro che ci consentiva di concentrarci sulle questioni che ritenevamo essere più urgenti. L'accordo che noi presentiamo oggi rientra all'interno di tutto questo quadro e di tutto questo lavoro completo.